mister l'avezzini un buon test per l'albisola per chiudere la stagione anche qualche volto nuovo insomma un albisola che guarda già al futuro sì abbiamo imparato anche fare le amichevoli nel senso che le amichevoli vanno prese sempre con un certo spirito con un certo impegno abbiamo fatto una buona partita abbiamo provato quattro giocatori nuovi veramente mi hanno anche sorpreso perché hanno fatto delle buonissime cose abbiamo provato un portiere del 2001 veramente bravo importante perché ha una certa personalità abbiamo provato tre stranieri tre giocatori che potrebbero anche farci comodo però aspettiamo perché appena cominciato adesso in questo momento il mercato un po di movimenti e vediamo di vedere altre persone poi alla fine valuteremo chi è più dato alla nostra squadra e poi si deciderà sul da farsi adesso in settimana chiuderete questa che è stata una stagione che lei ha vissuto in parte ma sicuramente una parte impegnativa e poi ci si proietterà alla costruzione della scuola per il prossimo anno e anche i pensieri su quello che sarà il prossimo anno oggi si è giocato a cairo non è forse un caso sì il problema più importante che dobbiamo ancora rinnovare il contratto perciò è difficile parlare anche di futuro anche se ci stiamo organizzando però appena sarà stabilito anche il mio ruolo nella società prenderò tutte le decisioni che c'è da prendere anche livello di squadra livello di organizzazione stiamo già facendolo ma sai fin quando non c'è una firma e fin quando uno non è sicuro di rimanere in un posto difficilmente riesce a lavorare con serenità aspettiamo se il calcio non è non è una cosa semplice da interpretare l'avezzini però ad albisola ci è stato bene ci sta bene quindi vorrebbe continuare io sto benissimo albisola sto bene con la proprietà anzi devo dire che ho trovato molto di più di quello che io aspettassi quando sono stato chiamato ho trovato una famiglia ho trovato una società dove io sinceramente mi sto trovando bene e questo per me è la cosa più importante più importante di tante altre cose magari di società anche più importanti magari di società anche più importanti